Compleanno in grande stile per il casificio Pondi Corvo, l'azienda casearia specializzata nella produzione di mozzarella di bufala campana DOP e formaggi a latte bovino che opera ad Alvignano, nell'alto casertano e che ha festeggiato alla presenza di numerose autorità di alla stampa ben 50 anni di attività. Una realtà che in mezzo secolo di vita è cresciuta enormemente con una visione sempre più internazionale, tanto che la sua mozzarella arriva in diversi paesi ma i suoi valori sono rimasti immutati mantenendo intatto lo stesso rapporto con la tradizione e il territorio. A margine dell'evento abbiamo sentito il titolare dell'azienda e la sua giovane figlia che ci ha spiegato l'importanza di questa giornata. La giornata di oggi è una giornata commemorativa, noi vogliamo ricordare nostro nonno perché comunque quello che siamo oggi è il frutto della tradizione e dell'esperienza di ciò che siamo stati. Mio nonno si trasferì dalla penisola sorrentina d'Alvignano nel 66 e dopo due anni ha costruito qui la casa e il casificio che abbiamo alle nostre spalle. Noi abbiamo deciso sempre di lavorare mantenendo l'artigianalità e la tradizione mantenendoci al tempo stesso al passo con la tecnologia e l'innovazione. La nostra promessa, quindi parlo io a nome dei miei fratelli che comunque siamo la generazione quindi attuale, è quella di continuare a lavorare sempre nel rispetto della tradizione di quello che ci ha insegnato papà e nonno. Progetti futuri, abbiamo in cantiere uno stabilimento nuovo perché comunque qui siamo un pochino stretti e quindi per soddisfare un po' tutte le esigenze e le richieste di mercato. Come si fa a mantenere una competizione visto che oggi sono tantissimi i casifici soprattutto nella Campania? Proprio grazie ai valori che ci ha incolcato papà e a sua volta nonno quindi lavorando in modo artigianale. Noi ancora oggi lavoriamo la mozzarella a mano quindi lui l'ha detto alla produzione, lui è a sua volta papà quindi è papà che gli ha trasmesso l'arte della mozzarella. So che ormai siete sul mercato non solo in Italia. Sì, diciamo che dal 1998 abbiamo avuto la fortuna di conoscere un'azienda giapponese che abbiamo iniziato con loro a esportare questa mozzarella in Giappone e con la loro collaborazione, il nostro impegno, i nostri studori diciamo che oggi in Giappone siamo una delle aziende più viste sul territorio giapponese quindi riguardo anche alla domanda che faceva prima mia figlia perché dovrebbero essere i clienti che devono venire da noi. I clienti, vari clienti stanno con noi perché ormai c'è fiducia, c'è rispetto, un'azienda seria che appunto oggi facciamo 50 anni di attività e quindi c'è un rispetto reciproco ambile parte sia da parte nostra verso i clienti ma da parte loro anche nei nostri confronti. Oltre al Giappone ci sono altri paesi? Sì, noi siamo presenti in tanti paesi esteri come la Corea del Sud, Inghilterra, Malta, Russia, Germania, Francia, Dubai e poi siamo presenti anche sul nostro territorio, sul territorio italiano diciamo iniziando dalla Sicilia al Piemonte, insomma un po' tutta l'Italia quindi abbiamo una bella fetta di clienti abbastanza importanti.